una piazza compare il banditore a suon di tamburi con al seguito molta gente il tamburino viene per primo mettendosi al centro della piazza poco dopo entra il banditore ed il tamburo egli ha una pergamena si guarda intorno per attirare l'attenzione poi srotolato solennemente il foglio con voce solenne legge si avverte la cittadinanza dell'avvenuta morte di gigatai fratello dell'imperatore a quell'annuncio molta gente si inginocchia in segno di rispetto mormorando e prega succede al trono il nipote del gran can il quale impone entro due giorni la restituzione della pietra adoperata come piedistallo alla colonna che sostiene il soffitto della chiesa tale pietra fu donata ai cristiani da gigatai dopo la sua conversione a cristo questa dovrà essere fatta recapitare in codesta piazza perché tutti possano comprendere che il potere assoluto torna ai saraceli l'attuale imperatore regnante non ammette intromissioni di dottrine cristiane ed ha solo due giorni di tempo oltre i quali verranno effettuate le dovute punizioni grande mormorio di gente è giusto la pietra è nostra in piazza che tutti la possano vedere a voi non importa che crolli il tempio conta solo la vostra superbia e con la superbia ci costruirete degli edifici marci d'odio e delle strade strette ed impraticabili di povertà di spirito ed inciviltà a voi non interessa l'uomo vi interessa la cupidigia la legge di maometto è assoluta non ammette mollezze cristiane voi non ammettete l'amore è detto lo sospettavo e morite per una causa di pietra ma ricordate che c'è più forza nella giustizia che nelle leggi coraniche e c'è più coraggio nell'amore disinteressato che salva il mondo e nella pace e se il cristiano colpisce in qualche modo è sempre per una causa giusta e valida voi colpite a casaccio come capita il buono ed il cattivo a seconda dei capricci noi invece colpiamo solo il cattivo e l'ingiusto ma spesso abbiamo i mezzi per redimere e perdonare la vostra forza è uno strumento stonato e perso per la strada la nostra è un canto continuo di speranza verso la salvezza dell'umanità è con la coercizione e la guerra che si vince è con la supremazia e io ti dico come disse Cristo che è con l'amore che si vince e l'amore ci dà l'intelligenza voi siate stolti di soprusi parli male del corano ti uccido tu mi hai già ucciso con le tue parole non c'è bisogno di farlo ma io ti uccido con le mie mani le mani sono fatte per pregare e per accarezzare il tuo odio ti rivolterà non ti raccapezzerai più tu mi aiuteresti se io cadessi per strada sono saraceno agli occhi di Dio non ci sono saraceni né cristiani ma uomini io non ti comprendo tu non mi comprendi poiché non hai imparato ad amare ma ad odiare il tuo prossimo non voglio ascoltarti non ho tempo e se ne va mentre la popolana si unisce agli altri ne escono esclamazioni di stupore e disappunto la piazza torna vuota e si sentono di lontano i lenti rintocchi delle campane di San Giovanni Battista la piazza torna vuota e si è un po' che ti rende Grazie a tutti.